Noi siamo ormai nell'era dei cambiamenti climatici, ci siamo dentro, quindi è necessario agire ore, quindi siamo partiti proprio dai luoghi dove è necessario creare una certa consapevolezza e quindi in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria abbiamo deciso di iniziare a fare una riflessione su quello che è il tema. Si parte proprio da questo documentario che è un documentario diretto da National Geographic e interpretato da Leonardo Di Caprio che è ambasciatore dei cambiamenti climatici, partire da un livello globale per poi scendere su scala locale e cercare di capire qui da noi un po' cosa avviene, quindi andare a sensibilizzare su queste tematiche giovani perché molto spesso noi immaginiamo che i cambiamenti climatici ci siano qualcosa che siano lontani da noi, non ci appartengono, in realtà i comportamenti individuali di ogni singola persona possono ingidere tantissimo su quello che è anche il cambio climatico e quindi questo ci impone di avere una maggiore consapevolezza e quindi le scelte, lo stile di vita, le scelte che noi andiamo a fare ogni giorno con i nostri consumi, con la scelta dei cibi, con la scelta dei materiali e quant'altro è fondamentale, importantissime, quindi bisogna partire dalle nuove generazioni che devono essere gli ambasciatori del futuro per cercare di provare a fare un passo indietro rispetto a quello che è ormai la situazione attuale. Bisogna partire appunto da questa consapevolezza della cittadinanza attiva ma non solo, anche i professionisti del futuro devono avere una maggiore consapevolezza, quindi tutte le scelte che si fanno a livello economico, a livello sociale, a livello globale e riportarlo appunto ad un livello locale con una formazione anche appropriata diciamo delle nuove professionalità che vanno nella direzione dell'economia circolare o della blue economy, della green economy e credo sia un passo in più, quella marcia in più che ci consentirebbe in qualche maniera di andare a mitigare quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici quindi anche nella nostra regione ma in Italia e diciamo altrove e quindi questo impegno da parte della nostra associazione è costante nel tempo proprio ci si impegna per andare a proprio formare le nuove generazioni su questi nuovi temi con una consapevolezza riguarda quella che può essere la tutela ambientale, la tutela della salute e la tutela anche l'etica da un punto di vista sociale se vogliamo.